di nuovo in onda cari amici di live social sempre qui su Radio News 24 oggi parleremo con Giuliana Di Venti che vado subito a salutare ciao Giuliana ciao Andrea allora Giuliana benvenuta qui a live social e raccontaci un po' la tua attività la tua professione di cosa ti occupi? Allora la mia professione appunto io sono libera professionista mi occupo di sviluppo commerciale per alberghi e di organizzazione eventi per aziende in realtà oggi vi parlavo della mia pagina Instagram le cassette di Giulia che è nata da una passione molto divertente ecco raccontaci la tua passione decorare il legno attraverso la tecnica dell'equipage è un hobby che fa molto bene perché mette a riposo la mente e libera la creatività soprattutto in un momento come questo. Beh certo lo passerai insomma a creare? Sì ho per fortuna del lavoro da svolgere per la mia professione però il tempo libero è molto di più rispetto a prima e quindi in questo momento riesco a creare più di prima sicuramente. Beh certo di quali oggetti parliamo Giuliana? Allora si possono usare oggetti da recupero come per esempio pallet in legno i famosi bancari che si usano per l'appoggio di materiali oppure le bobine di legno di diversi diametri ma più di tutto le cassette della frutta come per esempio le vecchie cassette delle mele che stavano i contadini quelli sono pezzi improvabili però si riescono a fare anche dei moduli molto belli. certo. E lavori soltanto su tue idee o anche su richieste fatte dalle persone? Allora lavoro su mie idee però sicuramente le persone mi danno tanti sconti per esempio c'è chi mi chiede il comodino per la propria camera da letto, sì la libreria personalizzata con la propria canzone del cuore oppure chi mi chiede semplicemente delle piccole cassette per fare delle confezioni in regalo o per usarle come multi in uso quindi non so anche porta saldo del caffè, porta gustine dello zucchero ma sono tutte idee che potete vedere su la mia pagina Instagram del caffè di Giulio. Certo. Ce ne sono tante, ce ne sono tantissime. La fantasia è sempre infinita ed è bello per questo. Giuliana io ti ringrazio per essere stata con noi, ringrazio Giuliana di Venti e ti auguro un buon proseguimento. Grazie Andrea, grazie, buon lavoro. Ciao anche a te. Ciao ciao. Ciao.